Attenzione, treno in transito a binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Allacciatevi le cinture, si parte. Ci siamo, questa è l'ora di SmokeJets, un programma di Luciano Marrone. SmokeJets Café, un programma di Stereo Sound Italia, proposto su RCD. Un programma di Stereo Sound Italia. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.